Aspetta, aspetta, andiamo in pace Che dire? Giudicate voi Laura cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Tante cose, tutto bello, tutto bello Buono Lasciamo stare le persone cattive? Piessa l'anguria vuoi? Che dire? Sì Cos'è con il chiamato? Non so cosa dire Dopo te lo dico Non diciamo niente Non diciamo niente Ma loro lo immaginano Sto che dire cose superbe E' sempre a discutere Ah facci chi ci vuoi? Mela No mela, mela Mela Sì Sì via esci Eh quelle bisogna controllarne un po' Esci da questo corpo Non fate casino eh Io mi nascondo se no tu mi metti su Youtube Aiuto Io mi nascondo Sandro è pericoloso con Youtube Non dire il sito No 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 Uporn.it www.uporn.it C'è Sandro C'è Sandro Sandro Gesuele Madonna Andate tutti sul sito Youtube Andiamo a prendere le bambine Io non ci sono mai Aspetta aspetta Gerica Giratevi Che dicono La roba A prendere le bambine Si Dammi A prendere le bambine Ah è cappaccio Sì A prendere il cappaccia A prendere il cappaccio A prendere il cappaccio Mangiamo, sediamoci. La palla! Vieni, vai a prendere la palla. Sei, sei. E lo ha mangiato. E lo vai a prendere la palla? No, la vado a prendere io. Le bocce dove sono? Sì, stai mangiato. Gli ho comprato te le bocce. E lo so, mangiato tutto. Papo, papo! Riprendimi qua dopo. Bravo amore che mangi. Non c'erano i bucci. Non c'erano i bucci. Non c'erano le bocce. Hai capito? Le bocce. Non le prendete? Ma lei lo ha mangiato? Qualcosina, qualcosina. Adesso te li prendo tutto al giorno. Iniziamo. Ma quello c'è un tempo. Dopo si spiega. Questo è buonissimo. Ah sì, hai già aperto? Allora dammi questo. Ho messo questo. Ok. Spengo. No, perché poi uno non sa più che vuole. Cosa hai detto Laura? Poi uno non sa più cosa dire. Vieni qua, papà. Mangi qualcosa. Guarda che c'è il vino nel freezer qua. Ciao. Angelica. Ciao. Di ciao. Di ciao la nonna. Di ciao la nonna. Di ciao nonna. Buon appetito. Buon appetito. Basta. Arrivederci. Buon appetito.